Spengo questa tv di merda perché io la voglia di vedere l'Inter sollevare la Supercoppa non ce l'ho E sia chiaro, non perché l'Inter non l'abbia meritata, l'Inter ha strameritato di vincere questa partita E vi devo dire la verità, il risultato è anche bugiardo Ma non nel senso che meritavamo almeno di fare uno o due gol Nel senso che l'Inter ne poteva fare 4-5 E anche poco 3-0 per quello che si è visto in campo Io questa squadra non la riconosco più Non lo so che cazzo è successo Io questa squadra non la riconosco più Non riesco più a riconoscerla Non c'è niente, niente in questa squadra Di quella che l'anno scorso ha vinto lo Scudetto Niente, non c'è più un cazzo di niente, niente Ed è la stessa squadra ragazzi È la stessa squadra, identica Identica Manca solo Mignan Che è rotto da settembre e ritornerà, non lo so L'anno prossimo a sto punto Ma per il resto è quella la squadra È quella C'è Ternandez C'è Leao C'è Tonali C'è Giroud Tutti quanti, ci sono tutti Ok, non c'è che sì Va bene Siamo d'accordo Però Anche basta con questa storia Ma manca che sì Quindi non credo che sia un giocatore a far tutta questa differenza C'è che stanno Non c'è proprio neanche la voglia di giocare le partite Non è solo un discorso tecnico Anche manca la voglia Ma questi scegliono in campo senza voglia Il primo tempo di oggi è paragonabile a quello che abbiamo fatto con Lecce Una merda Una merda Che devi ringraziare che è finito 2-0 quel primo tempo Potevano fartene 4 4 Come con Lecce Uguale Solo che con Lecce dici Oh boh, sai Una normale giornata di Serie A Magari ci sta che hanno preso la partita sotto il campo Ma questa cazzo era una finale Era una finale Vincevi un trofeo E adesso non voglio sentire quelli che dicono Eh sì ma tanto Supercoppa Una coppetta Un trofeo Non conta un cazzo Perché tanto la coppa No, non me ne frega niente Ma cos'è Tutti questi milanisti che C'è non vi lezzi tanti Sì siamo usciti dalla Coppa Italia Ma tanto Vabbè la Coppa Italia Che trofeo è E stasera magari diranno Vabbè sì abbiamo perso la Supercoppa Ho fatto il festeggiare agli interisti Tanto che trofeo Come che trofeo è Ma c'è Noi ragazzi Negli ultimi anni abbiamo la bacheca Piena di titoli Eh Ci abbiamo lì Siamo lì a spolverare trofei Che cazzo abbiamo vinto negli ultimi dieci anni A parte lo scudetto dell'anno scorso Io ricordo solo la Supercoppa del 2016 Poi per vedere un altro trofeo Tocca tornare al 2011 Ormai 12 anni fa Quindi negli ultimi 11 anni Abbiamo vinto due trofei Quindi ci sentiamo talmente forti Talmente superiore Da fare gli schizzinosi Per i trofei Non perché A sentire alcuni tifosi E a vedere i giocatori in campo Questo sembrava Giocatori schizzinosi Che entrano in campo Wow sì Dobbiamo proprio giocarla Sto finale Wow tanto è una coppetta Perché non avevano voglia Ma non ci ha messo neanche la voglia Non ci ha messo niente Le palle La voglia La tecnica Niente Zero Cioè ci andavo io lì a giocare Ci mettevo più voglia Poi facevo più cagate Perché sono incapace A giocare a calcio Ma sicuro la voglia ce la mettevo Quindi Neanche la voglia ci ha messo E sono pagati profumatamente E giocano per un club Importante Dolorioso Che sarebbe Quanto meno Da provare a onorare Quando si scende in campo Specialmente in una finale Ma invece no E il problema Non è tanto il trofeo perso Va bene Ok Hai perso il trofeo Ma si può perdere Una finale Specie con l'Inter Che è una squadra forte Un derby Ci mancherebbe che non puoi perdere un derby Ma non così Non giocando così Perché stasera la partita L'hai non giocata Non hai giocato la partita Te Non l'hai proprio giocata Non sei mai sceso in campo Hai fatto un primo tempo Da zero in pagella Dove non hai fatto niente E hai solo subito l'Inter Facendo errori su errori in difesa Errori su errori davanti E hai fatto un secondo tempo Da Quattro Quattro e mezzo Vogliamo essere generosi Giusto perché I primi 15-20 minuti Del secondo tempo Ci hai quantomeno provato A fare qualcosa Ma giusto provato Perché poi Per il resto Niente Io ragazzi Non so cosa dire Cioè Chiariamoci Non è neanche il punteggio Che scoccia Perché si rode Per 3-0 Però Per esempio L'anno scorso A squadra Che ha vinto lo scudetto Cioè il Milan Dell'anno scorso Contro l'Inter In Coppa Italia Nel ritorno Dalla semifinale Ci aveva perso 3-0 No? Però non ero così incazzato Alla fine di quella partita Perché Se andate a rivedervela Quella partita L'hai persa 3-0 Ma almeno L'avevi giocata Ma almeno C'erano stati Diversi sprazzi di partita Dove Avevi giocato Eri stato superiore Avevi creato occasione E avevi sbagliato C'era stato anche Il gol di Ben Nasser Poi annullato O di Calullo Mi sono annullato Perché Calullo passava davanti E disturbava la visuale Di Andanovic Gol Un po' così Magari Si potevano annullare Però questo per dire Che quella partita Almeno l'avevi giocata Ci avevi provato A giocarla Alla fine della partita Hai perso 3-0 Però dici Beh è un po' severo Come risultato Cioè almeno un gol Se non due Meritavamo di farli Stasera Cosa devi dire Hai perso 3-0 E stai zitto Stai zitto Hai perso 3-0 E ti è andata bene E questa la cosa Imbarazzante Hai perso 3-0 E ti è andata Anche bene Ed è ridicola Dirlo Ma è così È così Io non posso Neanche analizzare La partita di stasera Cosa c'è da analizzare? I primi 8 minuti Di sostanziale equilibrio Dove le due squadre Si studiano Poi al primo affondo L'Inter segna Noi Lasciamo le praterie Marcature a vuoto Kier che sbaglia Il fuorigioco Questi Che fanno passaggi Filtranti Come in FIFA Praticamente Arrivano a tutte le parti I nostri difensori Sono lì Oddio Cosa devo fare? Come quando giochi a FIFA Uguale Che sembra che non sa difendere La squadra che controlli te E arrivano in porta facile Di Marco sul secondo palo Non può sbagliare quel gol E Tataruzano non ci può fare niente Ma la posso manco prendere con lui E sul secondo gol Boh Lancio lungo per Dzeko Tutto solo Tonali va a molle Dzeko rientra Tira Qui magari Tataruzano Qualcosina è meglio Poteva fare Però comunque Il tiro è sul secondo palo Portiere Magari come ammignante La prende anche Però Il problema non è Tataruzano Che non l'ha presa Il problema è Quanto è svagata La fase difensiva della squadra Ma per non parlare Del terzo gol Cioè il terzo gol È qualcosa di allucinante Io nel terzo gol Vedrete la live reaction Che non so con che coraggio Monterò Visto lo schifo che abbiamo fatto Che ero sbaccato così Sul divano Ormai perché la partita Stava andando a puttane Perché inquadravano così Non so Inquadravano pubblico Rientra Sulla partita L'inquadratura E c'è Lautaro Praticamente Che si libera di Tomori E fa gol Cos'è successo? L'Inter ha battuto Un calcio di punizione Dalla sua a tre quarti Con un lancio lungo Tomori Così su Lautaro Lo spinge un po' Lo perde E Lautaro da solo Poi fa un bel gol Per carità D'esterno Nell'angolino Quello che vuole Ma così Lasciato solo Tomori Marcature leggere Talulu con Lecce Ha sbagliato di tutto Stasera è entrato nel secondo tempo Kier stasera Molle Tonali Molle C'è l'unico che ha giocato bene Forse Ben Nasser Davanti Messias Cazzo Ogni tre palloni che tocca Ne sbaglia quattro Ha sbagliato tutto quello Che poteva sbagliare Messias Leao stasera Anche lui Sembra che non c'aveva voglia Grazie Scusami Che Leao Aveva deciso l'ultimo derby Stasera non aveva voglia E ho deciso l'ultimo Pensateci voi stavolta Figurati Da quando è tornato al mondiale Sembra il fratello scemo No Lucas Hernandez Che è il fratello Quello è anche buono Il terzo fratello scemo Se esiste Boh Ma che cosa c'è da Sabato È giusto Ben Nasser Forse Ben Nasser L'unico che ha giocato E il resto è uno schifo Uno schifo dal punto di vista tecnico Dal punto di vista dell'atteggiamento Una partita o scena Imbarazzante Ed è giusto che l'Inter festeggi la Supercoppa Ed è giusto che noi la prendiamo in culo Dove aver giocato una partita del genere E io ho paura Per il proseguo del campionato Martedì prossimo C'è la Lazio C'è la Lazio Ma come cazzo ci vai a giocare Con la Lazio Con sto spirito Le prendi due o tre Anche dalla Lazio Perché noi ormai C'abbiamo la tassa Che due o tre gol La partita Le prendiamo sempre Visto che difendiamo come dei cani Voglio proprio vedere Cosa succederà con la Lazio Voglio proprio vedere La stagione sta andando a puttana Ragazzi Non è che c'è più molto tempo Continuiamo a giocare così Io ve lo dico Se continuiamo così Non arriviamo neanche tra i primi quattro Segnatevelo Perché è un attimo Che la stagione da deludente Diventa disastrosa Se poi non entriamo tra i primi quattro Vedete voi Quel che cazzo volete fare Grazie a tutti